Buongiorno ragazzi, questi giorni mi sto bombardando di contenuti sugli airdrop gratuiti. Oggi ragazzi vi porto questi ulteriori airdrop, i quali hanno già dato una data per il listing. Quindi cose veramente molto molto buone, speriamo che la fine vada realmente così, perché ricordiamo che fino a quando non si vede il listing non dobbiamo essere mai tranquilli, ma dato che tutto quanto gratuito a noi non ce ne frega niente. Ricordo ragazzi di mettere un bel mi piace per supportare il canale e qui sotto il link di Telegram, del gruppo Telegram, per avere ulteriori aggiornamenti in tempo reale su tutto il mondo delle criptovalute, gli airdrop e il copy trading. Oltre al link di Telegram trovate anche di quelli degli airdrop. Andiamo subito a vedere le foto con le date per il listing. Allora questo qui ragazzi è Musk Empire, che il 30 di settembre dovrebbe avere il suo airdrop. Oltre a Musk Empire abbiamo anche Rocky Rabbit, il 23 di settembre su Bing X e MaxC. Ricordi legandosi anche al video precedente sugli airdrop, ricordiamo che Katz ha avuto un listing per il pre-trading, ok? A quanto ho capito non si può depositare, ma si può comunque già fare trading con Katz. Non abbiamo portato video al riguardo, però ve ne parlo magari per chi non ha seguito la faccenda. Da Hamster Combat potrà essere tradato su Bybit il 26 di settembre. E quindi vi metto i soliti video a cui siete abituati di Antonio, dove fa tutta quanta la spiegazione dell'airdrop. Oltre a questi due che vi metto ragazzi ci sono anche altri, vi metto comunque tutti quanti i link di quelli che stiamo facendo qui sotto in descrizione. Sfruttate questi airdrop che sono gratuiti ragazzi, non so fino a quando andranno di moda gli airdrop gratuiti, ma adesso che sono diciamo nell'onda principale delle gripparude, insomma sfruttateli. Noi ragazzi ci sentiamo alla prossima, vi lascio con Antonio e un bacione a tutti. Ciao ciao! Ciao ragazzi ci siamo, ci siamo. Oggi vi presento questo nuovo gioco, Rocky Rabbit. È un gioco praticamente uguale, oserei dire, il fotocopia del famosissimo Hamster Combat. Che sta spopolando su Telegram e che a breve verrà listato, infatti è stata anche annunciata la data. Il 27 settembre verrà listato il token e verrà distribuito l'airdrop. Quindi, perché perdere questa occasione? Proviamoci con Rocky. È un TAP, un gioco TAP, quindi molto semplice. Nulla di tanto complicato, quindi come tutti i giochi al solito abbiamo tutte le nostre sezioni. Dobbiamo andare a compilare sempre le solite nostre TAP, quelle di collegarci, unirsi nelle varie community, mettere il mi piace sui canali YouTube, canali X, Telegram, eccetera. C'è tutta una serie di TAP che ormai conosciamo. La cosa particolare è anche qui è questa, dove noi possiamo vedere la combo di tre carte che vengono date e che vi darò nel momento in cui poi riusciremo ad entrare. Perché per fare la combo carte bisogna avere un minimo, se non erro, di un milione di monete per poter partecipare appunto a questa combo. Da qui, una volta che si inserisce la combo, si avranno ulteriori coin di premio. Qui noi abbiamo tutta una serie di task da completare, quindi che vi conviene assolutamente completare. Perché questo? Perché vi aumenta sempre il discorso del profitto orario. L'importante è avere un profitto orario alto, continuo a ripeterlo, perché è importantissimo. Andremo a produrre ogni tre ore, quindi andremo a fare ogni tre ore il claim. Per incrementare il nostro budget di monete. Qui ci sono poi una serie di appunto pagine dove andare a completare tutte queste task. Qui abbiamo un giochino Enigma. Enigma dove io ho già fatto, già compilato. Questo gioco lo possiamo fare, possiamo partecipare tutti. Vi darò io la combinazione, che la pubblicherò sul canale. E una volta risolto, diciamo, ecco l'enigma, si ha un premio di 2,5 milioni di coin. Che andrà tutto nel nostro portafoglio. Che noi andremo a spendere sempre per aumentare il profitto orario. Torniamo indietro. Quindi poi andiamo sul claim. Claim, questa è una sezione molto importante dove noi andremo puntualmente e giornalmente a fare claim su ogni, ogni, ogni task. E andremo ad accumulare tantissime coin in questo modo. Anche qui poi abbiamo tutta una serie di task da andare a completare. In questo modo noi compriamo delle carte. Facendo questo compriamo delle carte e aumentiamo il nostro profitto orario. In tutte queste pagine qui. Poi abbiamo questa sezione che è ancora in lavorazione. Questa è la solita pagina dove invitare gli amici. E qui poi abbiamo sezione Airdrop. Ma questa poi la vediamo in un secondo momento per collegare un eventuale portafoglio. Ma lo vediamo in un secondo momento questa sezione qua. Ora pensiamo al giochino. Giochino che fondamentalmente noi facciamo il tap e andiamo a incrementare le nostre monete. Un'altra sezione da vedere è BOST. BOST è molto carina come sezione perché abbiamo due punti fondamentali. Che sono il full energy e il turbo mode. Il full energy è praticamente... Andiamo a ricaricare per ben, mi pare, nove volte. Ma tra una sessione e l'altra passa un intervallo di tempo di circa mezz'oretta se non erro. Quindi noi possiamo andare a incrementare molto più velocemente le nostre coin. Facendo tappa appunto sul coniglietto. Gratuita. Poi abbiamo il turbo mode. Il turbo mode è molto simpatico. Vi faccio vedere. La possiamo fare per tre volte. Nell'arco della giornata parlo. Quindi noi facciamo continua. Se noi vediamo si apre questa sezione qui e noi andremo a fare il tap. Il tap lo faremo in una maniera turbo praticamente. Velocissima. Ma dura solo 10 secondi. Ecco per poi ritornare diciamo sul tap normale del coniglietto. Quindi molto simpatica come cosa. Qui invece abbiamo il nostro multitap che per aumentare i livelli di tap quindi di coin che vengono tappate ogni volta che si tocca praticamente noi dobbiamo acquistarli in questo modo qua. Come qualsiasi gioco tap. Poi cosa abbiamo ancora? Cosa abbiamo? Abbiamo IRN. Questo è molto importante perché noi dobbiamo andare a fare il claim giornaliero. In questo modo qua. Vedete? Io ora lo vado a fare. Lo faccio insieme a voi. Faccio check. E sono andato a fare il mio claim giornaliero. Nulla di più. Questo è il gioco. Molto 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 bello. Simpatico. Avrà secondo me delle buone possibilità. Anche questo come effettivamente sta accadendo con hamster. Quindi sono molto fiducioso su questo giochino qua. Mi piace molto. Mi piace. E per questo lo sto facendo. E per questo lo porto nel canale. Mi piace molto. Molto molto molto. Quindi ragazzi. Buon divertimento. Ciao ragazzi. Allora. Come detto nel video tutorial. Vi faccio un piccolo video. Dove. Vi spiego come inserire le parole nella sezione enigma. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo in mine. Enigma. E abbiamo il nostro quadrante con tutte le parole. La soluzione ve la girerò io tutte le sere sul gruppo. Quindi la manderò io sul gruppo tutte le sere. Più o meno. Verso sempre questo orario qui. Quindi noi cosa facciamo? Questa è la soluzione che io vi manderò. Ogni volta. Chiaramente cambia. In questo caso noi cosa abbiamo? Abbiamo tutta una sequenza di parole messe in un ordine ben preciso. Quindi a noi abbiamo la prima parola è ned. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo qui. In questo caso l'ho già inserita. Ned. Poi abbiamo la seconda parola. Border. Quindi il border. Vediamo. Scusate. Border. Anche questa l'ho già inserita. Quindi cosa facciamo ora? La terza parola. Prendiamo la terza parola. E quindi noi prendiamo questa. La mettiamo nel quadrante numero 3. Poi cosa facciamo? La 4. Prendiamo la parola numero 4. Che è già in automatico. Non so perché. Ma già la trovo lì. Poi abbiamo la 5. Che è il polar. Vediamo polar. Anche questa me la trovo lì. La 6. La andiamo ad inserire. Ed è questa. Quindi vedete ragazzi? Quindi noi dobbiamo andare a prendere le parole e inserirle nella sequenza giusta. Poi abbiamo la 7. In questo caso la 7 è qui. Esattamente qui. E così via. Quindi noi andiamo a prendere tutte le parole. Le andiamo a mettere tutte nella sequenza giusta della soluzione. Dopodiché andiamo a validare. E in questo modo poi ci verranno accreditati 2,5 milioni di token. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Questa sera vi porto un airdrop dal genere TAP. Ma ve lo porto con una certa, diciamo, tra virgolette, urgenza. Perché è stato appena annunciato praticamente la distribuzione dell'airdrop per il 30 di settembre. Abbiamo un mese per lavorarci su, un mese per guadagnare. E un mese, speriamo, per poter poi andare a riscattare le nostre monete in questo airdrop. In questo caso qua noi abbiamo X-Empire. Il tema viene come tema utilizzato Elon Musk. Quindi è il classico TAP. Dove noi andremo a tappare sull'omino per riscuotere le nostre monete. Abbiamo nella prima sezione, la solita sezione, carte. Dove noi andremo a comprare le carte per aumentare il nostro profitto orario. Questa sezione qua è una sezione un po' particolare dove tecnicamente, diciamo, bisogna investire del denaro per comprare determinate situazioni. Ma ognuno è libero poi di scegliere se investire o non investire denaro in meno. Io lo porto in quanto è un gioco gratuito. Quindi per me tale deve essere. Quindi giocare gratis e giocare. Poi abbiamo la nostra sezione mining appunto dove dicevo noi tappiamo sul nostro mino. La sezione amici dove noi possiamo invitare chi vogliamo e quanti ne vogliamo praticamente. La sezione missioni. In questa sezione qua, oltre a tutte le tasche che poi ci sono da compilare eccetera eccetera, quindi da effettuare. Ci sono delle tre tasche che sono importanti diciamo e dove io vi darò dei codici da poter poi inserire. Una per esempio è questa qua, che io non l'ho fatta ancora ma vabbè. E' praticamente guardare video su YouTube. Noi cosa facciamo? Guardiamo il video. In realtà noi non ce ne frega niente. Quindi il video non ce lo andiamo a guardare. Cosa facciamo? Scusate ragazzi ecco qua. Noi facciamo guarda video ma in realtà non lo guardiamo. In questo modo qua cosa succede? Ci esce una spunta codice. Qui noi dovremmo inserire il codice che io vi darò e che girerò nel gruppo tutti i giorni. Ok? Da qui noi poi andremo a riscuotere i nostri token. Altre due task importanti da fare praticamente sono queste. Che io le ho già fatte e sono rebus del giorno, questa, e indovinello del giorno. Io in realtà le ho già fatte. In queste due task praticamente noi apriamo e dice di inserire un codice. Questo codice ve lo girerò io giornalmente sempre nel gruppo. E anche qui noi andremo a riscuotere i nostri token. Detto questo ragazzi è il solito gioco TAP quindi nulla di particolare. È il solito giochino dove noi andiamo a incrementare il profitto orario, andiamo a incrementare le nostre monete. Lo sto portando diciamo con una tra virgolette urgenza perché appunto come dicevo prima è stata annunciata la distribuzione dell'Airdrop che è per il 30 di settembre. Insieme all'altro Airdrop che già c'è nel gruppo che è Rogi Rabbit, il giochino del coniglietto. Anche questo verrà distribuito a settembre quindi noi abbiamo un mese per poter lavorare su questi due giochini in maniera importante per guadagnare quanti più token possibile. Sperando che venga poi listato l'eventuale token. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, piccolo aggiornamento che mi era appunto sfuggito. Praticamente in questo giochino qua vi verrà data anche la possibilità di inserire una combo di tre carte che vi darò io e vi girerò nel gruppo. Io l'ho già inserita, ora vi faccio vedere in questo modo. Noi apriamo il nostro giochino. Sezione città che era la sezione dove vi dicevo appunto che non avevo ancora esplorato e visto bene. Ma in realtà una sezione l'avevo già fatta che è questa. Investimenti. Questa qua, queste tre carte praticamente vi faccio vedere. Quindi uno, due e tre. Sono le tre carte, la combo che voi dovete andare a inserire all'interno. Non dovete fare null'altro, inserirla ed eseguire quello che vi dice appunto il giochino di fare. Le carte noi le troviamo tutte qui, in questa sezione. Dopodiché vi verrà dato un quantitativo e una percentuale di token che va sempre nel vostro budget. Questo era un piccolo aggiornamento che mi era appunto sfuggito. Buona serata ragazzi. Buona serata.